Digitalizzare tutti i documenti della pubblica amministrazione. Questo è l'ambizioso obiettivo del Comune di Porcari, che ha presentato i risultati ottenuti fino ad oggi e le prospettive per il futuro. Il Comune si è dotato di tre scanner, uno da tavolo, uno a trascinamento per le cartografie e uno a luce fredda per i documenti storici. Il primo lavoro condotto è stato quello di digitalizzare le pratiche edilizie degli ultimi sei anni, circa 3.000 documenti, che a breve potranno essere consultati dai cittadini e dai professionisti. Adesso si procederà con la digitalizzazione di altri tipi di documenti. Ma quali obiettivi si propone il Comune? Si propone l'obiettivo di rendere più fruibili certi servizi, come per esempio l'accesso agli uffici urbanistici da parte dei professionisti, oppure per quanto riguarda l'ambito culturale l'accesso ai documenti storici del Paese, alla biblioteca online per esempio, oppure per rendere tutti i servizi di accesso ai documenti che fino ad ora erano cartacei, più fruibili e più veloci da parte dei cittadini, dei professionisti e di tutti quelli che ne vorranno fare un utilizzo. La possibilità di consultare i documenti digitali del Comune sarà facilitata dal rafforzamento della fibra ottica a Porcari. La rete primaria è già stata stesa e a breve partirà la stesura della rete secondaria.